Si svolgerà sabato 19 a Palermo la manifestazione nazionale organizzata al Movimento La Scuola che non ci sta e a cui aderisce partecipa anche al PD della provincia di Ragusa. La finalità della manifestazione è quella in pratica di concordare in particolare un'azione che possa orientare in modo coerente le scelte politiche del prossimo governo sul futuro della scuola pubblica italiana ed in particolare in Sicilia. Hanno confermato la loro presenza e le presenta la regione Crocetta, l'assessore regionale alla pubblica istruzione Nelli Scialabre, il parlamentare regionale Pippo Di Giacomele ha candidato al Senato Venerina Padua. Come più volte evidenziato, affermato il segretario provinciale del PD Salvo Zago, si ha coscienza di come la scuola soffra di numerose problematiche che vedono nel precariato oggi solo la punta dell'iceberg e con questo incontro si vuole approfondire e definire un'azione, rimarca Zago, che orienta le scelte politiche del prossimo governo sul futuro della scuola pubblica in Italia e soprattutto in Sicilia.